L'8 dicembre è una giornata doppiamente speciale per la comunità di Pertusio. Oltre a festeggiare l'Immacolata, infatti, il mondo agricolo cittadino si ritrova puntuale per dare vita all'evento dedicato al ringraziamento, momento sentito e molto partecipato. Anche nel 2022 non è venuta meno questa tradizione e così i priori Mauro Gianinatti e Lorenzo Cresto, in piena collaborazione con la sezione cittadina della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, hanno restito una bella e partecipata uscita. La festa si è aperta con l'immancabile raduno dei mezzi agricoli che hanno trovato posto nel piazzale antistante alla parrocchia. Alle 11 è stata la volta della Santa Messa che è stata celebrata nella chiesa di San Lorenzo. Quindi, al termine della cerimonia, come accade da anni, i trattori e i frutti della terra portati nell'occasione sono stati benedetti da Don Ilario, alla presenza anche di Monsignore Elena, del sindaco Giuseppe Damini e di Valentina Cresto, rappresentante della Col di Retti Turino. A mettere la parola fine all'evento, il momento conviviale, che ha permesso ancora una volta di insaldare amicizie e collaborazioni, ma anche di trascorrere qualche ora in spensieratezza e allegria, che non fanno di certo male dopo gli ultimi anni difficili trascorsi. A mettere la parola fine all'evento, il momento conviviale, che ha permesso ancora una volta di un'occasione, ma anche di un'occasione, ma anche di un'occasione, ma anche di un'occasione. Grazie. 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 Grazie.